Ciao regà, bentrovati sul mio canale YouTube No, oggi non sono qua per annunciare il mio ingresso in Epicky Blinders Semplicemente questa epica coppola era l'unico copricapo a mia disposizione A portata di mano per coprire un'acconciatura abbastanza inguardabile Ma come ogni lunedì vi porto quella che è un'analisi gameplay Analisi gameplay che oggi vede coinvolti il buon Giuovi Il mio grande amico pro player della Fiorentina E il bimbo danese Anders Vergang, Fenomeno, eccetera eccetera In una finale Blacky Cup Quindi veramente un'occasione che capita a fagiolo Per andare a portare un contenuto di questo tipo Senza perderci ulteriormente in chiacchiere Mettetevi comodi perché sarà una partita bella lunga Andiamoci a gustare questo game Che appunto si è giocato settimana scorsa In una finale di Blacky Cup Dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi Anders in maglia bianca Mentre con la classica tenuta viola Giovi da destra verso sinistra Giovi che come potete vedere Da un primo sguardo dal radar Si schiera con il suo ormai classico 5-3-2 Contrastato da quello che sembra un 4-4-2 Anche qui classico da parte di Anders Vergang Prima cosa che mi sembra di riscontrare È la difesa di Vergang molto schiacciata Su quello che è appunto Il portar palla da parte di Giovi E quindi questo mi lascia suggerire Attacco sul lato della palla Per andare a difendere questa azione E qui subito Giovi passa in vantaggio Con un gol Pazzesco Gli ha fatto ballare la Samba Guardate qui Lui si ritrova In questo momento a tu per tu con Vierà Fa una finta Sa che non può calciare Perché nonostante Vierà sia sbilanciato Nel momento in cui si va a caricare l'animazione del tiro Avrebbe sicuramente autobloccato Quindi che cosa fa? Finta la conclusione Lo manda al bar E insacca Sul pato opposto Veramente questo è un gol pazzesco Da parte di Giovi Che dunque dopo soli 5 minuti Si porta in vantaggio Contro il Contro il buon Anders Che subito si riversa in avanti Per cercare di risollevare Un attimino la partita Tra l'altro un piccolo dato statistico Anders ha vinto una roba come 25 Blackie Cup Su circa 30-35 partecipazioni Per un piccolo bottino di 15.000 euro Quindi pensate voi se giocasse tutti i giorni E soprattutto se non avesse fatto Cose abbastanza ambigue con i crediti Quando ci sono stati Totti Spacchettando con i crediti Come il più ludopatico degli Itas Insomma immaginate il gruzzoletto Che magari poteva star lì a raccogliere ogni sera Però ci sta Peccati di gioventù Non stiamo qua ovviamente a condannare Anders Che con i crediti può fare tranquillamente quello che vuole Intanto Giovi ancora in possesso del pallone Vedete come la sua manovra col 5-3-2 Sia molto molto ordinata e ragionata Qui ottima la costruzione per il tunnel direzionale di Neymar Che però si va a infrangere esattamente su Patrizio Viera Che era lì posto in posizione di difensore centrale Pronto a intercettare Intanto subito pausa richiesta da Anders Ormai già da qualche minuto Evidentemente vuole subito regolare Diciamo qualcosa a livello tattico Che non sta funzionando Palla qui a Zambrotta Sull'auto di sinistra Guardate però la difesa di Giovi Come non risenta minimamente Del tentativo di allargare la squadra Da parte del danese Visto che ha sempre l'uomo in più Che gli permette di poter andare a operare Una pressione come in questo caso con Quadrado Quindi ancora una volta Tunnel direzionale Che viene operato Però tra l'altro quello laterale Quindi facile preda di Giovi Che però in fase di impostazione qui sbaglia A costruire la manovra Si va a imbucare Mbappé Palla dentro verso Ribéry Qua un po' fortunato Giovi Perché Anders guardate qui come era stato bravo Lui nel momento in cui riceve palla con Cruif Già sa che la palla deve finire Su Mbappé che sta arrivando Come un cavallo selvaggio L'azione prosegue esattamente come Anders aveva immaginato Con questo scarico proprio sulla corsa di Mbappé Ribéry con il classico movimento a scaletta Vedete come viene dietro a cercare il pallone Però secondo me poteva fare un pelino meglio Qua io la palla l'avrei controllata Gli avrei fatto un movimento in controtempo E probabilmente avrebbe segnato Poi è chiaro vabbè ragazzi Da fuori è tutto più facile Soprattutto giorni dopo Lì la tensione del momento Magari quella giocata non l'ha vista Guardate come sono stretti e vicini I giocatori di Giovi nel suo 5-3-2 Guardate come sale Accompagnando l'azione con Bruno Con Viera e poi con Neymar Ancora una volta Bruno Viera Veramente un'interpretazione del 5-3-2 Ormai da parte di Giovi Al top secondo me in Europa A livello FIFA quest'anno Ne è diventato uno dei massimi interpreti della scena Qua però si perde un pochino in brodo di Giugiole E per poco Anders non azionava un pericolosissimo contropiede Viera recupera ancora una volta il pallone Stavolta vi ediamo quella che è l'avanzata di Theo Hernandez Tipica da parte del 5-3-2 La salita da parte degli esterni bassi di difesa Che diventano alti in fase d'attacco Però il cross è un attimino da dimenticare Anders va a operare quelle che sono appunto le sue correzioni E possiamo ripartire proprio con il danese in possesso palla Con Bappé sull'out di destra A cercare Cruyff al limite dell'area Vedete Cruyff come viene sempre fuori a prender palla a far gioco E qui il gol è di alta fattura Perché guardate come Cruyff in questa situazione Si ritrova praticamente avvinghiato da una scatola ragazzi Sembra una situazione questa che non porta a nulla Perché abbiamo la difesa schierata di Giovi Con il terzino che marca qui Tutti questi giocatori che hanno ingabbiato Cruyff in questo triangolo Insomma sembra un'azione abbastanza leggibile da parte di Giovi Invece qui un doppio passo a cercare lo scarico su Bruno Fernandes Uno switch un po' pigro da parte di Giovanni Palla girata verso Cruyff che una volta che sta per ricevere il pallone Ha già azionato la finta di tiro nel lato opposto Complice anche il fatto che non è stato ancora selezionato Lì il difensore da parte di Giovi E va a incrociare con questo bellissimo gol La rete che gli vale l'uno a uno Quindi alla mezz'ora tutto da rifare Tra i due devo dire anche questo un bel gol Dopo la prima rete di Giovanni Vediamo anche un'ottima risposta da parte di Anders Che fa vedere tutta quella che è la sua classe Con questa rapidità di pensiero negli ultimi metri Quindi nuovamente tutto quanto in equilibrio Giovanni riparte con questo suo solito possesso A cercare di liberare due punte Qui doppio tap Ma Neymar non trova una conclusione pulita Questo lo vorrei far rivedere Perché nel momento in cui lui qui con Ronaldo Vedete? Sembra questa una palla morta Ok? Perché Adama è davanti al portatore di palla Quindi sembrerebbe andare a coprire quella che è la linea di passaggio Però cosa succede? Che con il passaggio con doppia A O doppio triangolo come in questo caso La palla viene alzata a mezza altezza Scavalca il difensore Arriva sui piedi di Neymar Che poi incrocia in maniera abbastanza debole Questo purtroppo conta quella che è la potenza tiro di Neymar Che come vi dico sempre è un po' un suo limite È un punto debole da parte di questo giocatore E quindi ne esce un qualcosa che è abbastanza rivedibile Quindi salva il buon Anders in questa occasione Palla poi dall'altro lato con Messi sull'out di sinistra Intanto è anche prezioso questo movimento di Messi Che ci fa notare come Anders vada a utilizzare il dribbling agile contestuale Vediamo come dentro l'aria cerchi anche molto la Meghidi spin cancellata Skill che gli ha fatto tanto tanto male Andandogli a costare la prima sconfitta in Weekend League Dopo la streak clamorosa di 536 vittorie È un po' come il Cell va ad assorbire quelli che sono i poteri dei suoi avversari E incorpora per diventare l'essere perfetto Anders Qua a contropiede ancora una volta una situazione pericolosa Con Anders che accetta il tener palla di Jovi per ripartire in maniera poi rapidissima Palla verso Kylian Mbappé Che di suola cerca Bruno Fernandes Palla poi verso Runei Dite si Runei? Ebbene si raga questo c'è a Runei ed è un fenomeno che vi devo dire Cruyff si allarga ma guardate Jovi come è schierato Come i giocatori di Anders siano sempre ben marcati Qui proprio Runei si mangia un gol che probabilmente un altro giocatore avrebbe fatto Qui la gestione palla di Anders è perfetta Guardate come Jovi sia un po' pigro nello switch Guardate come ha selezionato Viera Quando in questo caso sicuramente avrebbe dovuto selezionare un Gomez Per cercare di colmare questo gap Visto che l'unico passaggio disponibile era questo o al più questo Ma su questo c'era comodamente l'intervento di questo difensore sulla linea di passaggio Quindi Bruno Fernandes va a servire in profondità Runei lungo questa verticale Troppo in ritardo Jovi con Gio Gomez Ma di mancino Wayne purtroppo non conclude come dovrebbe Vedete tiro largo Diciamo che fa un po' l'eco a quella che è la conclusione di Neymar Che non è andata propriamente a buon fine in precedenza Brunello Fernandes per Jovi cerca di ripartire Ripartire ancora una volta con Viera Firmino queste palle giocate Tra i te interpreti del centrocampo di Jovi A cercare poi il filtrante verso Cristiano Ronaldo Che cerca proprio l'avanzata di Firmino Siamo al minuto 43 quasi 44 Jovi qui forza la giocata perché aveva visto questo varco senza aspettare l'ultimo minuto Però era stato molto molto bravo perché vedete con la palla scaricata Verso Vieira si apre questo spazio verso Cristiano Ronaldo Ottima anche la giocata dello suola più scoop turn Qui poi si era giustamente andato a caricare la finta di tiro Però gli è uscita la finta di tiro all'indietro Qui magari andando a cancellare la finta di tiro verso il basso Avrebbe fatto un movimento meno ampio E che avrebbe disorientato Vieira E probabilmente avrebbe appunto portato maggiori fortune al player Viola Finisce così il primo tempo con Anders che si accontenta appunto di far scorrere semplicemente La fine e il fischio duplice dell'arbitro Jovi qua spreca subito il suo kick off Con la palla che viene recuperata da Anders con Runei che cerca il movimento dei suoi Arriva come un treno un bappeto all'esterno Finta anche in questo caso un po' troppo ampia Probabilmente non cercava questa giocata ma uno scoop turn E quindi anche Anders perde il pallone Intanto abbiamo visto come a fine primo tempo siano stati confermati gli schieramenti Ovvero il 4-4-2 di Anders e il 5-3-2 da parte di Jovi Guardate qui in questa situazione quel quadrato quanto è alto Quanto si trovi in una posizione ideale per fare gioco Qui uno scavetto che onestamente avrei rivisto Perché qui ottimo il corridoio Jovi aspetta anche saggiamente che il quadrato rientri dal fuorigioco Qua ottima la suola, ottimo l'intervento Qui c'è un corridoio molto comodo in questa sezione di campo Si sarebbe ritrovato Jovi praticamente in un 1-2-3-4 contro 2-3 Quindi una situazione tipica e di assoluta superiorità numerica Cerca invece questo inspiegabile scavino nella zona di Cristiano Ronaldo Ma c'è Adama che fa buona guardia Anders cerca da forzare la giocata con Cruif Ma Viera ci mette il piedone fortunato nel rimpallo Ribery in possesso cerca di dare palla nella zona di Mbappe E qua bravissimo Jovi con lo switch preventivo a mettersi sulla linea di passaggio Guardate come da entrambi i lati si cerchi sempre di fare il passaggio giusto Senza rischiare troppo però questa volta è un qualcosa che a Jovi rischia di costare caro Perché si alza la pressione di Anders che recupera il pallone Abbiamo visto più volte in tutte le partite che abbiamo analizzato Quanto sia bravo lui ad uscire così alto e a metterti in difficoltà Quindi è sicuramente un qualcosa che non puoi andare a concedere al player danese Quello di schiacciarti Gran giocata qui con Runei Palla c'è, palla non c'è con questa Meghidi spin Però il tiro è abbastanza centrale E Jovi in questo caso si salva con la parata miracolosa di Ederson Dico si salva perché la giocata era stata veramente ottima Il tiro ad incrociare anche però Purtroppo Runei, vi ripeto È palese che sia un fattore diciamo deficitario Nella squadra di Anders Lì magari un altro avrebbe avuto un Bappetto di un R9 O quant'altro Lui invece si ritrova con Runei E questi sono i risultati dei suoi spacchettamenti toti Bruno Fernandes qua cerca la giocata verso Cristiano Ronaldo Sbaglia la direzione del tunnel Jovi e gli esce quello laterale Che in realtà più che farti a chiusire un vantaggio Ti fa perdere un tempo di gioco Quindi facile preda poi della difesa Anders ancora una volta a cercare la cavalcata dei suoi esterni Qui probabilmente una suola che non registra E gli viene uno scavino Con la palla che si alza in maniera abbastanza impietosa Jovi si vede ancora una volta costretto a dover ripartire Ma Anders è veramente piazzato benissimo in campo E chiede anche una pausa magari per mettere forze fresche in campo Quando ormai siamo al 65esimo di questa avvincente partita Perché ha avuto un po' di fuochi d'artificio nella fase iniziale Per poi andarsi un pochino ad assestare Ma vi assicuro che non è una partita scoppiettante sotto il punto di vista delle occasioni Ma è bellissima da vedere dal punto di vista della tattica E di come sia molto giocata a centro campo Qui Jovi fa una giocata pazzesca Ma Ronaldo gli tira un attimino Una mozzarellina in carrozza E di sinistro Per cui Anders si salva Qui da calcio d'angolo con Teo di testa Ancora una volta non trova lo specchio della rete Jovi che si era costruito benissimo la giocata E ancora una volta una pausa Per smorzare anche i ritmi Perché la pausa raga a questi livelli Spesso e volentieri viene chiamata Anche semplicemente per dire Aspetta un attimo Fammi respirare Fammi capire quello che sta succedendo E tirare un attimino il fiato Qui intanto vediamo che entrano forze fresche per Anders Entrato il Sharawi Subito si fa vedere con questa palla verso Bruno Fernandes Un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore Che stava per favorire proprio Bruno Sulla ribattuta Però Jovi poi è bravo a disimpegnarsi Guardate come sull'out qui Jovi abbia sempre la superiorità numerica Portata da quello che è il suo laterale di difesa Che anche in questo caso potrebbe ricevere il pallone E poi andarsi ad involare verso l'area avversaria Cosa che invece non accade Perché si preferisce l'altro laterale Ovvero Mendy Che però è troppo È troppo basso È troppo coperto Per farsi pericoloso Cosa che invece non è in questa situazione Quando si porta a spasso Carlos Alberto Che però è bravissimo A traccargli tutto il movimento Non a boccare a quelli che sono i micro movimenti Con i quali solitamente si disorienta l'avversario E appunto Anders recupera il pallone Palla scucchiaiata nella zona di Zambrotta Deve cercare il più possibile di aggirare questa gabbia centrale Vedete cercare di lavorare ai fianchi di Jovi Per far sì che si venga a scardinare Il muro portato dal 5-3-2 Nella zona mediana del campo Quello che però traspare Secondo me È il occhio qui a del Sharawi Che però viene chiuso ottimamente da Walker È il fatto che Anders Rispetto a inizio anno Si sia evoluto tanto Abbiamo visto un giocatore Che ha imparato a essere più riflessivo A gestire meglio quelle che sono le azioni difensive Senza buttarsi troppo in avanti Con aggressività Alle volte quando magari anche non era richiesto Ha diciamo un po' più di rispetto per gli avversari Sotto questo punto di vista Visto che Nelle giocate è un pochino più Attento Perché magari prima sapeva Che se prendeva un gol Poteva farne altri tre Adesso la situazione si è sicuramente ribaltata Con tutte le patch eccetera eccetera Che ci sono state Guardate qui com'è Aspetta il momento giusto Studia quella che è la gabbia di Giovi Guardate come La squadra di Giovi Rimanga perfettamente in posizione Su tutti quelli che sono i passaggi Guardate la linea di difesa Che rimane perfettamente schierata I tre del centrocampo Che fanno filtro E gli attaccanti che vengono a ripiegare E possono andare anche a chiudere In questa zona Quindi è veramente difficile Sotto questo punto di vista Andare a penetrare All'interno della difesa di Giovi Anders sta cercando anche di poter Sfruttare magari Quella che è Il momentum Relativo al minuto 90 Infatti vedete come tiene palla Senza affondare Cercando di aspettare L'ultima azione La palla va sempre Da un lato all'altro del campo Guardate in attesa Di poi andarsi A buttare dentro In quelli che sono I minuti finali Non gliene frega niente Di andare a Offendere ora E poi magari concedere L'azione All'avversario Qui però rischia Perché Giovi riesce a portare Una versione alta Che però non si traduce Nella riconquista Del pallone Ancora questo giropalla Di Anders Con Giovi Che io vedo sotto Che scuote testa Respira Visibilmente Insomma Preoccupato Da quello che sta Da quello che sta succedendo Però è molto molto composta La La Le giocate Da parte del Del player Della Fiorentina Qui finalmente Un minuto di recupero Quindi per Anders È il momento Di buttarsi in avanti Ma dopo 10 minuti Di possesso palla Sbaglia il passaggio Poi fortunato Nel recuperare Qui in questa Su questo calcio Da fermo Palla dentro Verso Cruif Messi dentro Ancora James Però A intervenire E quindi match Che termina Sul risultato Di 1 a 1 Ma abbiamo bisogno Di un vincitore Direi di andare magari Con un pochino più Di rapidità A vedere esattamente Quello che succede Al minuto 94 Con Giovi Che rovescia Il kickoff Del suo avversario Si butta dentro Con Tavernier Palla dentro Col doppio tappa Ancora Neymar Gli fa un grandissimo Numero In controtempo Semplicemente con l'analogico A segnare La rete del vantaggio Guardate qui Tavernier Quindi ancora una volta Abbiamo La figura Del laterale di difesa Del 5-3-2 Che diviene Ruolo attivo Nella fase offensiva Doppio tap Per andare a mettere In difficoltà Adama E mettergli Diciamo Rendergli difficile Quello che è un intercetto Palla che poi viene data A Neymar Che prima si gira Verso questo lato Poi si rigira Verso quest'altro E va Inzaccare La rete del 2-1 Mandando totalmente Al bar Vieira Che ci ha capito Diciamo Molto poco In questo caso Quindi bella giocata Ancora una volta Da parte di Giovi Che si dimostra Abilissimo Nello stretto Con le immagini Andiamo Sul finire del primo tempo Che appunto Supplementare Si conclude Con questo tentativo Di contropiede Di Anders Con Giovi Un po' scoperto Ma 2-1 Per il player Della viola Al minuto 105 Con ultimi 15 Da giocare Ripresa che parte Ancora una volta Con Giovi Un po' stesso palla Qui una grandissima Palla Verso Neymar Non si è capito Esattamente Cosa è successo Perché guardate Neymar era Assolutamente In vantaggio C'era una prateria Qui il cross Però arriva Troppo All'indietro Smorzato E quindi Neymar Si fa cogliere In preparato Qui forse Avrei provato Anche una giocata Bassa Ovviamente Visto il risultato Di come è uscito Questo cross Però Il cross Quello teso Diciamo E' stato sicuramente La giocata Più giusta Che lì per lì Avrei fatto Sicuramente Anche io O a rivederlo Uno dice Cavolo Se gliela davi Bassa Gli arrivava Eh sì Però appunto Con i secconi Ma Dopo E' sempre Molto semplice Qui vediamo Come Anders Abbia alzato La pressione Giovi Si ritrovi Un attimino In una situazione Complicata Però ne esce Molto bene Da questa Fase di pressing Anders ormai Si ritrova Praticamente Con un solo Giocatore In difesa Però qua Guardate che cosa Si inventa Un corridoio Magistrale Nella zona Di El Sharawi Fortunato Nel rimpallo Due volte Gomez Per fortuna Poi rinviene Ed evita Guai peggiori Per la difesa Viola Qui Vierà Semplicemente Recuperando il pallone Aveva lanciato El Sharawi Che si era ritrovato A tu per tu Recupero Palla alto In questo caso Con Giovi Che sbaglia Guardate qui L'impostazione Con Mendy Cincischia Troppo E Anders Questo Ti punisce Immediatamente Mezzo drag Back Palla dentro Verso Gruif Tiro di prima Rete del 2 a 2 E con annessa Esultanza Da parte Di Anders Che Riacciuffa Il Pari Partita Che termina Su questo Risultato In maniera Abbastanza Blanda Quindi Arriviamo Ai calci Di rigore Per decidere Questa bellissima Partita E questa bellissima Finale Di Blacky Cup Tra questi due Giocatori Che hanno Veramente Mostrato Di essere Al top Della forma In questo In questo Momento Per cui Il primo Rigore Spetta Proprio Al buon Anders Che lo Insacca Con El Sharawi Giovi Parte con Tavernier Che nonostante Il mirino Era dentro La porta E Tavernier Abbia 99 Di rigore Prende il palo Col brivido Kulusevski Si fa ipnotizzare Da Ederson Si presenta poi Mendy sul dischetto Piede sinistro Per lui Scavetto Che manda Che manda Al bar Schmeichel In questo Caso Wayne Rooney Si ripresenta Stavolta Indovina l'angolo Con Giovi Che con Il passo Verso Destra Non riesce Più ad arrivare A parare Questo rigore Atal Spiazza Ancora una volta Schmeichel 3 su 3 Per il player Della Viola Parte Cruif E stavolta Ederson Ci mette le manone Match point Per Giovi Che è molto bravo Sui rigori Raga L'ho visto sempre vincere Anche contro pro Eccetera eccetera Neymar Si presenta dal dischetto In sacca E si aggiudica La vittoria Di questa bellissima partita Di questa bellissima Blacky Cup Veramente Mettendo in capo Una prestazione Incredibile Contro il piccolo talento Danese Ragazzi Io ringrazio Tutti quanti voi Per la visione Di questo video Per essere arrivati Chi è arrivato Fino alla fine Per vedere Come andava a finire Questa partita Vi ricordo di lasciare Un like E un commento Iscrivetevi al canale In descrizione Trovate tutte le info Su quelle che sono I live e giornali Sulla piattaforma Viola A me non resta altro Che salutarvi Un bacione Al vostro Riberoski Ciao ciao